... Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, perché partiamo da Neandert, adesso lo capirete, ma partiamo innanzitutto da un omaggio a chi ci ha... ...a chi ci ha lasciati un paio di mesi fa, presidente monario del CICAP, fondatore del CICAP, ma soprattutto maestro di narrazione. Di narrazione della scienza, cosa credo utile in questo paese, soprattutto in questo paese che è così refrattario alle conoscenze scientifiche e soprattutto al metodo di lavoro della ricerca scientifica, come abbiamo anche avuto modo di vedere in tanti telegiornali e tour show negli ultimi paio d'anni, grazie, tra virgolette, al Covid. Sì, perché appunto la scienza va raccontata e soprattutto va raccontato il metodo, diciamo che è il perno attraverso il quale si snodano tutte le scienze possibili. Se, come dicevo prima, si potesse abbassare un po' la luce in sala sarebbe meglio. Perché la narrazione ha bisogno anche un po' di teatro. Perché cominciamo dai Neandertal? Cominciamo dai Neandertal perché i Neandertal sono stati i primi a essere stati scoperti. La mia è una storia della paleoantropologia, quindi inizia dall'inizio della storia, cioè inizia dal pieno 800 e qua siamo nel 1848 quando viene scoperto il primo Neandertal, anzi è una donna, ma nessuno se ne accorge. Siamo sulla rocca di Gibraltar, nel profondo sud della penisola iberica e questo cranio finisce in uno scaffale del British Museum a Londra senza che nessuno ne riconosca la natura di una forma umana estinta. Questo verrà capito molto dopo, come vedete da quella ricostruzione che viene fatta oggi dai cosiddetti paleoartisti, in particolare quelli sono i gemelli Kennis, i gemelli Kennis, che sono due bravissimi olandesi che ricostruiscono i volti e i corpi dei nostri antenati estinti e vedete quella ricostruzione in silicone, quanti messaggi allo stesso tempo riesce a mandare legati al colore della pelle piuttosto che a quello degli occhi, all'espressione, a quelle penne infilate tra i capelli e altri aspetti che hanno a che fare con tutto quello che noi oggi sappiamo su un'umanità estinta chiamata Neandertal, basato su quel cranio lì, quel cranio rinvenuto nel 1848 nella rocca di Gibraltar e non riconosciuto come rappresentante di un'umanità estinta. Bisognerà aspettare ancora anni perché invece nel 1856 in una valle tedesca, Neandertal, chi non la conosce, tal come sapete significa valle, Neander è lo pseudonimo di un musicista del 600, a cui la valle era stata intitolata, lì c'erano dei lavori di cava e in una grotta, questa che si chiama Feldhofer, vengono rinvenuti i resti di uno scheletro che sarà destinato, come vedremo tra un attimo, a essere davvero l'olotipo di una specie, umana estinta. Erano gli anni ruggenti, se mi passate questa espressione, del maestro. Charles Darwin in quegli anni pubblicava finalmente, dopo vent'anni di pensieri, pubblicava finalmente l'origine delle specie e dava ai suoi contemporanei e a noi tutti ancora oggi la spiegazione teorica di qualcosa che tutti sapevano che era avvenuto, ma nessuno sapeva spiegare come era avvenuto, cioè l'evoluzione. Darwin non ha inventato, forse qualcuno qua fuori può pensare, l'evoluzione. L'evoluzione è un fatto. Darwin ha compreso, insieme ad altri, e poi l'abbiamo compreso sempre meglio, grazie alle basi che lui ha messo, ha compreso il meccanismo che sta dietro questo fenomeno. Il meccanismo lui lo chiamò selezione naturale, ma ovviamente adesso non abbiamo tempo di parlare di questo. Il punto che vi volevo sottolineare è che in quegli anni si incominciava a parlare seriamente di evoluzione. Ne parlava anche un altro amico di Darwin, quello che molti considerano, anzi lo stesso Darwin considerava il suo difensore ufficiale. quello che si spinse più di Darwin stesso nel lagone, diciamo, delle discussioni pubbliche sul darwinismo e sull'evoluzione, questo signore qui che si chiama Thomas Harry Huxley, che proprio nel 1863, pochi anni dopo l'origine delle specie di Darwin, scrive il Man's Place in Nature, cioè il libro che ha un titolo evocativo a mille, Il posto dell'uomo nella natura, del quale prende egli stesso in considerazione quei resti rinvenuti nella valle di Neander in Germania pochi anni prima. Vedete lì in alto a destra un cranio umano moderno, anatomicamente moderno, sovrapposto al profilo della calotta cranica rinvenuta nella valle di Neander. E tra l'altro questo libro, Il Man's Place in Nature, tra parentesi, è stata la base di una conferenza per noi famosissima che si tenne a Torino nel 1864, l'anno dopo, da parte di uno zoologo, Filippo De Filippi, che è in qualche modo da tutti considerata l'ingresso del darwinismo e dell'evoluzionismo in Italia. Ma è anche, forse, l'ispirazione di fondo che spinge un certo William King, poco noto per altri versi, un geo-paleontologo, che però appunto è quello che ha il merito, nel 1864 appunto, di emettere la sentenza. E la sentenza è fatta di due parole, homo neandertalensis, significa dire qualcosa di simile a noi, homo, ma anche qualcosa di diverso da noi, neandertalensis. E questo è il fascino dei Neandertal, il fascino, il mistero, l'interesse dei Neandertal, di essere qualcosa in cui specchiarci, proprio perché è molto simile a noi, ma al tempo stesso distinto da noi. e lo fa sulla base di quei resti fossili rinvenuti otto anni prima nella valle di Neander in Germania, concentrandosi sui caratteri morfologici, ovviamente, uno scheletro di un Neandertal, lì a Feldhofer, a Neandertal, c'erano parti di uno scheletro, e questi resti vengono esaminati con cura, guardando ogni dettaglio. Effettivamente uno scheletro neandertaliano è uno scheletro diverso dal nostro in tanti dettagli, ma visto da lontano sembra uno scheletro umano, a tutti gli effetti, appunto, homo neandertalensis, cosa di simile e di diverso da noi al tempo stesso. E poi c'è quella calotta cranica, quella che era comparsa già nell'immagine di Huxley, che ci dice che abbiamo a che fare con una forma del cranio molto diversa dalla nostra, anche se le dimensioni, come penso tutti sapete, del cranio del Neandertal erano praticamente identiche alle nostre, quindi un grande cervello accolto in una forma differente. Homo neandertalensis. è il battesimo, non solo dei Neandertal, che rappresenteranno una sorta di filo rosso in tutta la storia della paleoantropologia, ma è anche proprio il battesimo della paleoantropologia. La scienza delle nostre origini inizia qui. Non nel 48 a Gibraltar, neanche negli anni 30 a Engie, in Belgio, dove era stato trovato un cucciolo di Neandertal e nessuno l'aveva capito, ma appunto nel 1864, o se volete nel 56, quando nella Feldhofer grotto di Neandertal era stato trovato questo scheletro. Nasce un dibattito, un dibattito che durerà alcuni decenni, qualcuno parla di quello scheletro di uno di noi semplicemente malato, un rachitico, qualcuno parla di un cosacco che inseguendo le armate napoleoniche in ritirata si era andato a rifugiare in una grotta, la grotta di Feldhofer in Germania, e che aveva i femori un po' ricurvi per l'abitudine di andare a cavallo dei cosacchi. Qualcuno scriverà che era un cosacco rachitico, cioè quindi era... Ma di cosacchi rachitici se ne trovano almeno altri due, qualche anno dopo, e sono i due scheletri di Spi in Belgio. E di Neandertal se ne troveranno diversi altri nel corso dei decenni dell'Ottocento e anche poi in tutto il Novecento e ancora oggi. Quindi Neandertal diventano un dato di fatto, una realtà biologica estinta di una creatura umana simile e diversa da noi. Un esempio per tutti è quello che viene descritto agli inizi del Novecento da quel signore che si vede lì sullo sfondo, Marcelin Boulle, un importante paleoantropologo francese, che è l'artefice della prima monografia, cioè proprio un volume intero dedicato a uno scheletro di Neandertal, questo viene dalla Francia, la Chapelle Hossain. Si potrebbe parlare per ore di questo scheletro anche perché la monografia di Marcelin Boulle è interessantissima, ma al tempo stesso porta con sé ad alcuni errori che in quegli anni importanti dei primi del Novecento contribuiscono a quello che sul versante della biologia evoluzionistica fu l'oblio del darwinismo, come lo chiamò Julian Axley, e qui è un po' l'oblio dei Neandertal, nel senso i Neandertal considerati come delle forme regredite, si diceva, di umanità in quegli anni. Perché le idee erano confuse, è ovvio, avendo a che fare con poca evidenza fossile. anche perché in questa poca evidenza fossile si aggiungevano i cosiddetti Cro-Magnon, altri fossili scoperti in Europa, sempre nella seconda metà dell'Ottocento, che però rispetto ai Neandertal avevano una caratteristica ben diversa, cioè erano fossili come i Neandertal, quindi antichi, antichi più o meno quanto i Neandertal. Ma la morfologia, come vedete anche da quel cranio famosissimo, il Cro-Magnon 1, la morfologia questa volta non è diversa dalla nostra. Un cranio grande, come quello di un Neandertal, ma soprattutto rotondo, come il nostro. Io e altri in sala portiamo i capelli corti per mostrare questa caratteristica e come vedete di questi Cro-Magnon o Cro-Magnonoidi, come venivano chiamati, se ne trovano diversi, in Francia soprattutto, ma anche in Inghilterra, poi verranno anche in Italia, per esempio ai Balzi Rossi, in Liguria e così via, e forse sono loro questi esseri fossili e quindi molto antichi, ma la testa grande e rotonda, sono loro gli autori di quell'arte rupestre che si vede in giro e che incomincia a essere scoperta in alcune grotte, come per esempio quella di Altamira in Spagna. Devo confondersi con una Altamura in Puglia. Ma siamo ancora lontani sia nel caso dei Neandertal che nel caso dei Cro-Magnon o Sapiens, che così possiamo anche chiamare, quindi né Homo Neandertalensis, specie umane estinta, né Homo Sapiens, specie sia fossile che attuale, possiamo rappresentare quello che era un po' una specie di utopia dell'evoluzionista dell'Ottocento, cioè andare alla ricerca di quello che qualcuno chiamava l'anello mancante, cioè una forma estinta, sì, che avesse delle caratteristiche tali, come diceva Ernest Eck, che era un famoso morfologo tedesco, di poter ricongiungere gli esseri umani alle forme di scimi antromomorfe oggi presenti sulla Terra, così simili a noi e così al tempo stesso distanti da noi. Cioè Huxley, Heckel, dicevano, beh, insomma, è chiaro che l'uomo è vicino alle scimi antromomorfe, gli scimpanzei, i gorilla, gli orangutang, ma c'è un noiato, c'è un vuoto, c'è una differenza da colmare, che forse si colma con una forma che possiamo trovare negli strati sottoterra, una specie di anello mancante a questa catena di viventi, e questo anello potrebbe avere il nome di pitecantropo, diceva Heckel. è proprio un termine che lui ha coniato, è che è stato un grande creatore di neologismi, per esempio ecologia, un termine che usiamo oggi abitualmente, l'ha coniata lui, oppure ontogenesi. Ebbene, si è inventato anche pitecantropo, che vuol dire piteco, uomo, no? Scimmia, uomo. Una via di mezzo tra le forme più chiaramente cimesche, tipo appunto quei tre che vedete scritti lì, e noi che siamo un po' meno cimeschi, diciamo così, cioè siamo più umani, ma siamo così vicini a loro. Né i Neandertal, né i Cro-Magnon potevano soddisfare a questa attesa, se non che un olandese, questo signore qua, Eugène Dubois, se ne parte per le Indie orientali, in particolare per l'isola di Sumatra prima, e poi quella di Java, e il pitecantropo pensa davvero di averlo trovato. Usciti dall'Europa, perché sia i Neandertal che i Cro-Magnon erano tutte e due forme europee, si trova effettivamente qualcosa di più arcaico. Vengono trovate varie cose, insomma, l'elemento fondamentale è quella calotta cranica che vedete lì rappresentata in vario modo, anche in questa silhouette qua in primo piano. È una calotta cranica che ricorda un po' quella di Neandertal, nel senso che è schiacciata con un rilievo sopraorbitario importante, con un allungamento anteroposteriore, ma è più piccolo, questo è il punto. Mentre i Neandertal avevano un cervello molto grande, quindi difficilmente potevano rappresentare l'anello mancante, qua invece il cervello è più piccolo, veramente una via di mezzo tra quello di una scimmia antropomorfa, meno di mezzo litro, e quella di un essere umano, sapiens o Neandertal che sia, di un litro e mezzo quasi. Qua siamo a circa un litro. E quindi forse il termine epitecantropo, pensò Eugène Dubois, potrebbe essere quello adatto. nessuno gli crede tanto, tant'è che Dubois finisce un po' fuori di senno la sua vita con questi fossili sotto il letto riportati in Olanda, ma questo è una creatura che poi oggi noi conosciamo molto bene da depositi dell'isola di Java, dalla Cina, e chiamiamo non più Pitecantropus erectus, ma Homo erectus. Quell'Erectus è rimasto a memoria di questa importante scoperta di fine Ottocento. Come vedete siamo negli anni Novanta di quel secolo. Facciamo quindi un riassunto. Alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, avevamo a disposizione un po' di Neandertal, un po' di Cro-Magnon, cioè di Homo sapiens, il Pitecantropo di Java, che diventerà appunto quello che oggi chiamiamo Homo erectus, e una mandibola rinvenuta sempre in Germania, in un posto che si chiama Mauer, vicino a Heidelberg, a cui viene dato subito il nome Homo heidelbergensis. Un nome che per molto tempo, quasi un secolo, rimarrà affibbiata solo a quella mandibola, ma che oggi invece è molto importante nelle nostre analisi, come forse vi dirò io stesso più avanti, sicuramente vi dirà Fabio Di Vincenzo. Vedete, io vi ho riportato qui sulla sinistra, non so se qua c'è un puntatore, eccolo, vi ho riportato qui sulla sinistra i milioni di anni e qui queste sparute evidenze dei primi del Novecento, più o meno riferibili ai primi del Novecento, dove abbiamo appunto la nostra specie, quella dei Neandertal, un esempio di questa specie chiamata Homo heidelbergensis, un po' più arcaica, e una forma ancora più arcaica, cioè il Pitecantropus erectus di Dubois. Che si fa con questa roba? Beh, ben poco, l'unica cosa che viene da fare è magari fare una linea che colleghi la forma più arcaica alla forma più derivata, e dato che i Neandertal hanno un cervello troppo grande, magari è una forma deviata rispetto alla traiettoria principale, diciamo, dell'evoluzione. Non è che si può capire tanto, anche perché non si è arrivati ancora, probabilmente, al cuore del problema. il maestro l'aveva detto, andate a cercare in Africa, perché lì troverete i resti dell'antenato dell'uomo, perché è in Africa che vivono oggi gli scimpanzei gorilla, che sono i nostri parenti più prossimi, e quindi è ragionevole che è proprio in Africa che noi possiamo trovare le evidenze della più antica evoluzione umana. Aveva ragione, ancora una volta, il maestro, di fatti, nel momento in cui qualcuno trova un cranietto di un cucciolo strano, che non si capisce di che cosa è, non è il cucciolo d'uomo, non è un cucciolo di scimpanzee, non è un cucciolo di macaco, non è un cucciolo di babbuino, è fossile, è molto antico, è probabilmente qualcosa di nuovo e guardando bene ha alcune caratteristiche che sembrano alludere a quella che potrebbe essere stata dopo l'evoluzione umana perché ha qualcosa che richiama una nostra caratteristica fondamentale che è la postura retta e la locomozione bipede. Analizzando la posizione del forame che noi abbiamo alla base del cranio, in questo cranietto è esattamente dove ce l'abbiamo noi questo forame, cioè è portato in avanti la testimonianza del fatto che deve avere il cranio proprio in equilibrio sulla colonna vertebrale. poi alcuni dettagli del cervello, diciamo così, cioè delle impronte lasciate all'interno del cranio dalle meningi in quella specie di calco endocranico naturale che si vede dietro e soprattutto i denti strani, strani per essere una scimmia antropomorfa, sapete le scimmie antropomorfe hanno dei canini sporgenti e una conformazione particolare del rapporto tra canino superiore e premolare inferiore che noi non abbiamo e che questo cucciolo neanche aveva. Lo chiama Australopithecus africanus che è un nome che non vuol dire quasi nulla, vuol dire scimmia dell'emisfera australe, siamo in Sudafrica, africano. Ma nelle due paginette di un articolo sul Nature dell'anno dopo la scoperta, siamo nel 1925 quando viene pubblicato quest'articolo sul Nature, lui chiaramente dice questo potrebbe essere un remoto antenato dell'uomo. Non gli crede nessuno. Non gli crede nessuno anche perché la intelligenza scientifica soprattutto inglese di quegli anni è innamorata dell'antenato inglese. Sì, è un mito un po' così vittoriano quasi, tardo vittoriano, l'idea che l'antenato doc possa essere suddito di sua maestà britannica. È una forma di Brexit anche in quel caso. In realtà purtroppo, ma non si capirà proprio subito, è una frode. si tratta di una serie di pezzi messi insieme da qualche antiquario di Portobello Road potremmo dire, insomma in realtà era uno del Sussex, che combinavano il cranio di una sepoltura recente con la mandibola, una parte di mandibola di un orangutang preso da qualche magazzino di museo. messi insieme, adesso anche qua si potrebbe parlare alcune ore perché ci sono librerie intere sulla frode di Pildown che è molto interessante secondo me soprattutto per un motivo. Per il motivo che per quanto in un primo momento abbia convinto diciamo la comunità scientifica dell'epoca piano piano è uscita di scena fino ad essere smentita poi molti anni dopo ma piano piano è uscita di scena perché? Perché non tornava con gli altri dati che è proprio il fondamento di come funziona la scienza c'è un reperto si fa un'ipotesi l'ipotesi che questo sia l'antenato e poi si va a confrontare con gli altri reperti e man mano che si confronta si scopre che questo è strano e non c'entra niente con tutto il resto della evidenza disponibile quindi esce di scena viene smentito progressivamente verrà smentito definitivamente negli anni 50 pensate però adesso questo era molto incidentale da parte mia solo per dire che l'australopiteco di Dart così si chiama l'autore che descrisse questa nuova specie questo nuovo genere non viene subito accolto con favore perché c'è di mezzo appunto l'antenato finto diciamo così di Pildown ma poi viene invece confermata l'esistenza di queste australopitecine da successive scoperte fatte sempre in Sudafrica si tratta di quelle che ancora quando ero studente io chiamavamo australopitecine gracili e tuttora insomma qualcuno le chiama così sono delle creature appunto come quel cucciolo adesso qua siamo di fronte agli adulti considerati una femmina quella STS 5 un maschio quella STS 71 che hanno appunto delle caratteristiche bizzarre cioè hanno un crano piccolo come quello di uno scimpanzè un muso abbastanza importante ma abbastanza schiacciato dei denti strani cioè dei denti che alludono alla dentatura umana e soprattutto sono bipedi come dimostra il forano occipitale ma soprattutto poi tutta un'altra serie di ossa per esempio quelle del bacino sono vissute milioni di anni fa non sappiamo dire quanto non sapevano dire quanto adesso lo sappiamo in Sudafrica in un'area dove di foreste da parecchio tempo a questa parte non ce n'è l'ombra per cui forse questo bipedismo è legato a una fuoriuscita dal contesto forestale dell'Africa più equatoriale non ci sono soltanto le australopitecine gracili ci sono anche le australopitecine cosiddette robuste che cos'hanno di robusto? non è la corporatura ma è tutta una serie di sovrastrutture osse e dentarie legate a un apparato di masticazione particolarmente efficiente e particolarmente importante potrei dire dovuto a un adattamento alimentare verso vegetali coriacei erano delle creature che passavano gran parte del loro tempo a masticare con una potentissima muscolatura come vedete anche da quella cresta sagittale che è proprio l'inserzione di questi muscoli temporali così importanti delle arcate zigomatiche particolarmente significative che anche se hanno a che fare con questo tipo di muscolatura dei denti dei denti giganteschi soprattutto i molari posteriori siamo sempre in Sudafrica e dove abbiamo appunto le australopitecine gracidi e quelle robuste poi finalmente è venuta Olduvai Olduvai è un sito molto più a nord ma sempre in Africa siamo in Tanzania per la precisione e ci lavorano dagli anni 30 dal 33 se non mi ricordo male per la precisione prima Louis Leakey e poi la sua seconda moglie Mary Leakey lavorano lì perché sono convinti che nella gola di Olduvai dove si vedono questi depotesi questi depositi colossali scavati appunto da questa gola e quindi che mostrano proprio le sequenze le successioni stratigrafiche di importanti sequenze di una fase lacustre in quella zona dove si sono andate a depositare sedimenti ma anche tantissimi resti di faune estinte quando lì c'era un lago e proprio nel 59 nuove tecniche di datazione consentono di attribuire una data a questi livelli soprattutto a quelli più bassi della stratigrafia di Olduvai siamo intorno a 2 milioni di anni ora se vi fate due conti 2 milioni di anni è davvero tanto rispetto alle epoche che avevamo visto in quel grafico dove avevamo messo i milioni di anni dove stavamo tutti dentro l'ultimo milione qua siamo al doppio dell'antichità del più antico di tutti che era il Pitecantropus Erectus di Java di Dubois siamo in Africa e finalmente nel 59 dopo 20 anni Lewis e Mary Licky scoprono finalmente un fossile per 30 anni hanno trovato negli strati della gola di Olduvai manufatti come quello lì tanta fauna di animali estinti ma mai un resto fossile di qualcosa che potesse essere legato all'evoluzione umana quindi hanno avuto tanta pazienza Lewis e Mary Licky fino a che nel 59 Mary scopre quel cranio lì è il cranio di una creatura che assomiglia molto lo vedete da soli credo alle australopitecine robuste del Sudafrica difatti oggi lo consideriamo così come loro lo consideriamo nell'aspect nel genere Paranthropus ma Lewis Licky decide di dargli un nome particolare il nome è Zingiantropus Boisei e soprattutto pensa in un articolo che pubblica nel 59 che sia questa creatura qui malgrado il cervello relativamente piccolo ma con le caratteristiche che puntano all'umanità prima fra tutte il bipedismo oltre ai denti strani che sia lui l'artefice dei manufatti che da 20 anni trovavano nei livelli stratigrafici della gola di Olduvai i manufatti dell'olduvaiano come viene solitamente chiamato e la domanda a questo punto è davvero lui il toolmaker questa creatura con questo apparato di masticazione così importante la risposta ilichei stessi la danno pochissimi anni dopo nel 61 la stessa Mary scopre quei resti che vedete sparpagliati lì su quella pubblicazione su quell'articolo comparso sul Nature ancora una volta trova i resti di una creatura che poi vedete lì in un cranio trovato in anni successivi che si chiama OH24 vedete appunto è una creatura diversa ricorda vagamente le australopidecine gracili del Sudafrica le gracili non le robuste ma ha un cervello un po' più grande ed è forse lui il toolmaker bene allora quello che vorrei a questo punto dirvi e siamo quasi arrivati alla conclusione è che è proprio qui a Olduvai nei primi anni 60 del 900 e vedete che è passato un secolo dai primi Neandertal riconosciuti come Omo Neandertalensis che nasce un'ipotesi l'ipotesi è qui nella gola di Olduvai in un livello che possiamo oggi datare a circa due milioni di anni ci sono tre cose i manufatti dell'olduvaiano il probabile toolmaker con un cervello grandino ma appena un po' più di quello di un australopiteco che viene chiamato Omo Abilis e i resti del grande masticatore un parantropo non sarà che questi due essendo simili ma così diversi al tempo stesso abbiano un parente un antenato comune da ricercare in livelli stratigrafici più antichi che qui a Olduvai non ci sono ma da qualche altra parte in Africa forse li possiamo trovare ed è qui che nascono alcune missioni in giro per l'Africa orientale che vanno a cercare depositi stratigraficamente più antichi dei due milioni di anni del bed 1 della gola di Olduvai alla ricerca dell'antenato comune tra il toolmaker e il grande masticatore parenti sì ma divergenti sul piano adattativo lui un vegetariano di roba coriacea lui un carnivoro fondamentalmente schematizzo molto ovviamente ed è così che salta fuori la star della paleoantropologia cioè l'USI l'USI è l'esempio di come funziona proprio la paleoantropologia e come funziona tutta la scienza alla fine c'è un modello che viene costruito sulla base di certe evidenze si va alla ricerca attraverso un laboratorio particolarissimo degli archeologi dei paleoantropologi che è l'attività di terreno lo scavo e si cerca qualcosa che possa confermare o smentire quell'ipotesi l'USI è la conferma di un'ipotesi cioè in strati più antichi di quelli della gola di Olduvai si trovano reperti come questo scheletrino di 3 milioni e 200 mila anni fa che ha caratteristiche ancestrali rispetto sia al toolmaker che al grande masticatore anche di l'USI come di tante altre ciascuna delle slide che vi ho mostrato in realtà potrebbe essere una finestra aperta su un ciclo di lezioni di paleoantropologia anche qui su l'USI si potrebbe parlare tanto anche del significato che ha avuto in termini di ambasciatrice della paleoantropologia della scienza delle nostre origini ancora oggi se uno si domanda che mestiere faccia un paleoantropologo se gli si dice se gli si dicono due parole che sono quelle del titolo neandertal e l'USI si capisce subito di che cosa stiamo parlando e qui c'è una svolta una svolta fondamentale che ha a che fare anche con le impronte di Leitoli di cui non ho il tempo di dirvi che è quella della fine degli anni settanta quando si incomincia a disegnare non più un albero lineare dell'evoluzione umana ma un albero biforcato dell'evoluzione umana quell'albero lì a me piace molto sta in un libro famoso che molti di noi hanno letto alla fine degli anni settanta che aveva proprio il titolo LUSI ed è una miscela tra i vecchi modelli evolutivi quelli lineari come quello che vedete in rosa sulla sinistra e un modello invece più cladogenetico diciamo noi cioè con delle una almeno ramificazione principale che è quella di circa 3 milioni 2 milioni di anni fa c'è un antenato comune che è la specie a cui viene attribuita l'USI cioè Australopithecus afarensis c'è una linea delle australopitecine che porta ai grandi masticatori e c'è una linea dell'iomo che sono queste forme che encefalizzano cioè hanno un cervello via via sempre più grande e producono manufattilitici è una storia bella complessa complicatissima che vi verrà raccontata soprattutto dalle prossime due relazioni tre relazioni di stamattina e poi vedremo anche gli aspetti genetici è una storia che oggi possiamo raccontare così molto 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 più ricca quando Darwin nel 1859 alla penultima pagina dell'origine delle specie scrive luce si farà sull'origine dell'uomo della sua storia questo grafico dimostra che aveva ragione che effettivamente molta luce si è fatta sulla storia dell'evoluzione umana le nostre origini e che tutte quelle barrette che vedete lì sono le specie in un quadro abbastanza equilibrato né splitter cioè senza troppe specie né lamper cioè senza poche specie una cosa media noi oggi possiamo descrivere parlando di tutta la nostra quello che tutti chiamano il cespuglio dell'evoluzione umana poi se si entra in dettaglio per esempio se volessimo andare a guardare il genere uomo come credo faranno soprattutto le prossime relazioni di stamattina è chiaro che la storia si complica ancora perché dobbiamo uscire dall'Africa e occuparci di uno scenario almeno tripartito tra Eurasia e Africa e quindi insomma di questo poi credo che si parlerà a lungo più avanti un'ultima parola per dire del Nobel che il prolettore citava o tu Antonio forse citavi stamattina effettivamente una settimana fa un mese fa scusate è stato il Nobel Svante Pabo che è il padre della paleogenomica argomento di cui si parlerà soprattutto credo oggi pomeriggio e in questi vent'anni dal 1997 a oggi da tutto ciò che Pabo e i suoi collaboratori hanno seminato e prodotto siamo arrivati a delle cose strabilianti come per esempio quella raccontata da quella copertina di Nature di un paio di anni fa dove appunto si è riusciti a riconoscere l'ibrido di prima generazione da un pezzetto addosso così l'ibrido di prima generazione tra una Neandertal e un Denisova e tutti forse qui in questa sala sapete che quando parliamo di Denisova parliamo di una specie o di una varietà umana che fino a 12 anni fa non conoscevamo e che abbiamo conosciuto proprio grazie al cosiddetto DNA antico il premio nobile è stato attribuito dall'accademia svedese un mese fa noi abbiamo il merito di aver nominato accademico dell'incei Svante Pabo un anno fa abbiamo battuto di un anno l'accademia svedese grazie grazie scusate visto visto che Natale è vicino questi sono alcuni consigli per i regali di Natale ma soprattutto dopo Natale c'è c'è la scuola di paleantropologia che quest'anno si tiene come da 12 anni si tiene a Perugia e questo è un avviso che potete trovare facilmente su internet riguardo a questa nostra avventura anche di insegnamento della paleantropologia in tutta la sua interdisciplinarietà come è stato detto stamattina da chi ha introdotto la giornata grazie 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 Grazie.